Gli ultimi cinque anni sono stati molto complicati e dolorosi. Dalla plancia di comando guidato il sistema sanitario Lombardo nella resistenza alla pandemia. Poi sono stato al fianco di commercianti, artigiani e imprese per ottenere ristori e sostegni e delle famiglie per attutire la crisi economica e il caroenergia. Ora mi ricandido per essere ancora in prima linea al servizio della Lombardia. Ancora in prima linea per migliorare la qualità della vita dei Lombardi. Il 12 e il 13 febbraio fai una croce su Forza Italia e accanto scrivi Gallera. Forza Italia